Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi voglio parlare di questo prodotto Che altro non è che Le famosissime ciglia magnetiche Allora queste praticamente si dovrebbero attaccare automaticamente da sole Fra di loro e donare questo effetto wow Senza mettere colla e senza niente Vediamo subito come funziona Eccoli qua Queste sono le ciglia e io adesso voglio vedere se riuscirò ad attaccarle Allora qualcosa è attaccato ma non credo di averlo attaccato nel verso giusto Allora fra di loro si attaccano perfettamente C'è qualcosa che non va proprio Quindi ovviamente si sono attaccate Però guardate qua Vedete? No Vedete? Decisamente no Provo più in dentro Vediamo un attimino Indubbiamente si attaccano ad una velocità impressionante Il problema è questo risultato No Bene Per tutti coloro che sognano questo prodotto qua Ve lo sconsiglio vivamente È una porcheria Non rimangono incollate a dovere L'effetto è Lo sceno È veramente allucinante Si si attaccano ad una velocità impressionante Ma come qualità sono veramente terribili Bene Io con questo video ho terminato Vi mando un bacio E ci vediamo al prossimo video Ciao